Carissimi, Fiat, oggi 14 agosto, vigilia della solennità dell'Assunta. Vogliamo, come questi giorni scorsi, iniziare con il pensiero del Papa. Maria vive con Gesù completamente trasfigurata e tutte le creature cantano la sua bellezza. E' la donna vestita di sole, con la sua luna sotto i suoi piedi, una corona di 12 stelle. Maria, elevata al cielo, è madre regina di tutto il creato, nel suo corpo glorificato, insieme a Cristo risorto, a parte della creazione, e raggiunta la pienezza della sua bellezza. Papa Francesco, da laudato sì. Questi giorni abbiamo un pochino accennato, perché sono brevi i pensieri. Pregare in Maria, pregare con Maria. Stamattina vogliamo dire pregare in Maria. E che è un po' differente. Pregare in Maria significa associarsi alla vita interiore di Maria. Pregare in Maria è come pregare in Gesù. È come pregare nella Divina Volontà. Perché in Maria, in tutta la sua vita, né un pasto, né un respiro, né un atto, niente, tutto in Dio, tutto nella luce della Divina Volontà. Allora, automaticamente noi entriamo nella Divina Volontà pregando in Maria. Allora, pregando in Maria, noi preghiamo con le sue preghiere, facciamo nostri i suoi passi, facciamo nostri i suoi atti, tutto ciò che Maria fece sulla terra. Come preparazione a questa solennità, sappiamo che la solennità dell'Assunta è connessa alla solennità della Divina Volontà. Maria ha raggiunto l'apice del trionfo del Divino Volere. Lei non si separa dalla terra. Lei è coperta da un amore grandissimo, talmente è un manto come un cielo grande che copre tutti i suoi figli. Se li ha postati in cielo. Maria, assunta in cielo, ha portato tutto quello che Gesù ha vissuto sulla terra perché lei ha condiviso tutto quello che ha fatto Gesù. E ha portato tutta la sua vita corredata nella Divina Volontà. Quindi, a distanza di un giorno che oggi è vigilia, noi vogliamo pregare in Maria. pregare come ha pregato lei. Vogliamo sperare che la luce del Fiat Divino entri in tutti i cuori come è entrato in Maria. Maria ha vissuto tutta la sua vita in piena luce. E piena di luce è stato trasformato ogni suo atto. Maria sulla terra esternamente era una creatura normale. Però, quando è andata al cielo, è stata trasformata, come ha detto Papa Giovanni. quindi, i lavori compiuti da Maria sono soltanto un corredo che lei ha lasciato. Quando Maria è salita al cielo, non è salita da sola. Lei ha portato tutti noi come ha fatto Gesù. E allora, entriamo in Maria. Facciamo nostra la sua preghiera. Facciamo nostro i suoi atti. Facciamo nostro e tutta la sua vita. Perché Maria è madre, regina e speranza dell'umanità. Pregare in Maria tutto ciò che è suo diventa nostro. Pregare in Maria e pregare in Dio e pregare nella divina volontà. Lei è la depositaria di tutti i beni. Il tempo per Dio è un punto solo. Lui guarda e segue l'umanità percorrendo la via del ritorno verso il posto stabilito. Questo è stato l'ideale di Maria. Quello di ritornare al posto da dove noi siamo stati creati. Quando Dio ha creato Maria l'ha creata col primo atto di principio e di continuazione. Quando diciamo il gloria che diciamo come era nel principio noi risaliamo anche all'atto quando è stata concepita Maria come era nel principio. Maria è la porta di ingresso il suo intimo e ricco di grazia di sapienza di luce divina. il prima a varcare la porta della divina volontà sia in terra che in cielo è stata Maria. Gesù dice non avrei potuto scendere dal cielo se non avessi trovato la mia celeste mamma il mio paradiso. lui in Maria ha trovato il suo paradiso lei possedeva la mia volontà e mi preparò questo soggiorno tutto celeste. Niente di simile alla patria celeste questo è dal diario di Luisa pregare in Maria e vivere nella luce che illumina l'ingresso dell'anima e godere ciò che lei gode godeva e gode è una luce che sempre ardi Maria mai si scolore mai si spegne perché la luce di Dio dalla quale scendono come celeste lungiata riflessi di luce senza interruzione per nutrire i beni che Dio ha messi in ogni creatura con il suo amore. Maria fecunda dello spirito del Padre Maria nutre la sua maternità divina anche in cielo. Questa maternità è fatta di santità di amore tutto il genere umano si prodica di portare a Maria nella divina volontà quella luce che lei ha vissuto sulla terra e che poi la vivremo in cielo. È un patrimonio spirituale la vita di Maria. Entrando in Maria noi prendiamo parte di questo patrimonio che lei ha vissuto sulla terra però che in cielo viene moltiplicato all'infinito con riflessi celesti. Maria è inondata. Questa vigilia della festa dell'assunta ci deve portare alla grandezza di Maria che è stata trasformata in luce. L'umanità che Maria viveva sulla terra copriva tutta la bellezza interiore di Maria però al momento che è salita al cielo e quindi l'umanità è caduta e lei è stata trasformata in luce. Contempliamo Maria entriamo in Maria preghiamo in Maria entriamo nella luce di Maria godiamoci questa vigilia questa vigilia che poi è la festa dell'assunzione di Maria connessa alla festa della divina volontà. Domani ne parleremo con più estensione e vedremo anche come lui ha visto l'assunzione di Maria contemplare l'assunzione di Maria è lo stesso che contemplare l'ascensione di Gesù lui quando s'anni andato al cielo ha lasciato la mamma come guida per la chiesa una volta che è sceso poi lo spirito santo allora Maria ha lasciato anche lei la terra e ha raggiunto il cielo ora vogliamo anche noi sperimentare questi momenti sublimi e leviamo lo sguardo il cuore in alto perché il mondo assorbe e ci fa distrarre però sono momenti da non lasciare così in balia delle onde sono momenti che bisogna riflettere perché sono festività troppo grandi una festività dell'assunta che parla del principio cioè al momento che Dio ha fatto la creazione al momento che ha creato Maria al momento che ha creato tutti noi quindi ci solleva e ci fa godere quel ritorno di cui parla Gesù quel ritorno al nostro posto per cui fumo creati io mi auguro una grande vigilia una sana vigilia e ci uniremo anche al Papa oggi per il fatto di ci uniremo anche al Papa di quello che ha fatto per la GMG ed il Papa e lui collega tutta la terra e quindi segue quello che ha fatto Gesù e quindi segue anche quello che ha fatto Maria uniamoci alla Chiesa che sempre implora il Regno venga il tuo Regno venga ma dove lo troviamo il Regno il Regno il Paradiso il Regno è dentro di noi il Regno è quel seme come dice il Vangelo quel seme che è stato buttato nella nostra anima facciamolo marcire facciamolo crescere e facciamo che Gesù colga i Suoi frutti io vi auguro una santa vigilia affinché domani possiamo contemplare veramente la grandezza di questa festa della divina volontà connessa con Maria assunta al cielo con Maria con Maria